È stata aperta un'inchiesta sull'incidente avvenuto a Mestre per omicidio colposo plurimo. Tante le domande al momento senza una risposta. Il procuratore che segue l'inchiesta ha spiegato che sull'asfalto non ci sono segni di frenata e il mezzo avrebbe preso fuoco solo con la caduta. Nessun incendio si era sviluppato prima dell'incidente. Il mezzo, supermoderno, era dotato di una scatola nera. Sarà analizzata e darà sicuramente degli elementi utili alle indagini. Intanto gli inquirenti hanno ascoltato alcuni dei feriti che, anche se sono ricoverati, sono in grado di parlare e raccontare qualcosa. Al centro dell'attenzione anche una fuoriuscita di gas dalle batterie al litio.